... Filinus! Chi è? Come chi è? Sono io. Ah, fantozzi, bentornato, come va, eh? Eh, senta, scusi, io avrei bisogno di... cioè di un... Non capisco... Io sono dodici anni che non... Dodici anni che non? È una chiave. Che chiave? È per la cintura ricassitata di mia moglie. Vabbè, capisco, mi lasci finire questo lavoretto. Anzi, mi faccio una cortesia, visto che lei ci vede bene... Sì, sì, ci vuole un attimo. Visto che lei ci vede bene, mi controlli se questo ferro è bello dritto. No! Perché? Non lo so perché, ho detto... ho detto no. Lei mi nega un favore. Avanti, su controlli, controlli. No, no, no. Su controlli. Su, guardi. Scusi, eh. Sì? Io darei un altro colpettino qui, ecco. Indichi. Guardi, esattamente qui. Eh? Oh! Oh! Chi fa? Voi le dico, voi le dico. Ecco, prenda queste chiavi. Il capone andrà sicuramente bene. Altrimenti, vengo io col trinciante. Eh, no, preferisco... Le chiami? Va bene, ecco qua, venga. Allora io... Oh, come va il dito? Eh... Facci vedere. Vandi, vandi. Poi mi racconterà, eh? O'odio. Ah... Grazie.